Il Milan, una gara importantissima per entrambe le squadre, per l'Udinese che vuole rialzarsi dopo tre sconfitte di fila, per il Milan che vuole mettere alle spalle la sconfitta con il Napoli e quella con la Juventus che l'ha estromessa dal Team Cup. Una gara che non bisogna fallire, una gara che bisogna aggredire, come ha detto Del Neri in conferenza stampa e anche il messaggero riprende un po' questo clima di aggressività anche nel suo titolo. Arriva il Milan, serve un giorno da Leoni, 11 di partenza quasi obbligatorio dopo il forfè di Coombs che si aggiunge a Widmer. Nucuri convocato col numero 7, solito attacco per risolvere il problema del gol. Dunque Nucuri subito lanciato nella mischia, partirà dalla panchina ma potrebbe comunque entrare a gara in corso. Il giocatore che arriva dall'Inter è stato ufficializzato e la giornata di venerdì si è allenato sabato con la squadra adesso è già in lista. Questa è la formazione con Carnezi si importa, Faraoni, Danilo, Felipe, Samir, Alfredson, Fofanà e Iancto e davanti Zapata. De Paul e Terò. Il Milan dovrebbe rispondere così con Donnarum, Desciglio, Romagnoli, Paletta e Abate, Locatelli alla giro in cabina di regia, Bertolacci e Cucca come mezzale. Poi Bacca, unica punta con Buonaventura e Suso a supporto in panchina. L'altro nuovo numero 7, si tratta di De Olufeo, quindi due nuovi numeri 7 sia per il Milan che per l'Udinese. Entrambi partiranno dalla panchina. Vediamo cosa scrive Pietro Leotto nel suo articolo, almeno quello che è l'incipit ovviamente, poi per l'articolo completo come al solito vi rimandiamo all'edizione cartacea del giornale. Con quel diavolo di Montella non ci sono mezze misure, un solo pareggio in 14 rendezvous con l'Udinese e neppure all'andata la statistica ha tradito i bookmakers, visto che il Milan a San Siro ha perso contro i bianconeri. Un precedente incoraggiante per oggi. Ci sarà partita davanti a uno stadio Friuli tutto esaurito, con almeno 6-7 mila tifosi rossoneri sugli spalti, che però un minimo di preoccupazione ce l'avranno imboccando uno dei tornelli dell'impianto dei Rizzi. Insomma sarà uno stadio quasi del tutto pieno, mancano soltanto 500 biglietti, che tra l'altro saranno a disposizione di vendita anche questa mattina, per cui se avete voglia di vedere la partita e non avete ancora comprato il tagliando, vi venne ancora a disponibilità, insomma sarà uno stadio quasi del tutto pieno. Ci saranno anche due grandissimi ex, uno per il Milan, si tratta di Giovanni Galli, due coppe campioni con i rossoneri, ora opinionista di Mediaset Premium, che parlerà con Bruno Pizzul nell'auditorium dello stadio per il pubblico della Klebaus. E poi per noi, per l'Udinese, ci sarà Marek Jankulowski, doppio ex, lui ha giocato sia con l'Udinese che con il Milan, protagonista della prima Champions dell'Udinese, prima di vestire per sei stagioni la maglia del Milan. Mancherà invece per la prima volta in trasferta dal 2013 Adriano Galliani, complice l'influenza. Sold out anche nel settore stampa, visto l'arrivo di numerosi inviati, tra cui quelli giapponesi al seguito di Onda e quelli della TV ungherese. Onda che è un po' ai margini del progetto, in verità, però i giornalisti giapponesi non mollano mai, erano presenti anche alla Dacia Arena, allo stadio Friuli, per Nagatomo con l'Inter. Nagatomo ovviamente non ha visto il campo. I precedenti, il pareggio manca da sei anni, l'abbiamo visto prima, con quello che è lo score di Montella, ma in generale anche con il Milan, è una situazione che non si verifica quasi mai. La striscia casalinga dei bianconeri è ancora più positiva, con cinque vittorie registrate negli ultimi otto incontri. L'ultimo confronto al Friuli è andato però al Milan, vittorioso per 3-2 il 22 settembre 2015, con l'ultimo gol in rosso-nero di Mario Balotelli. 3-0 il primo tempo, l'Udinese quasi l'ha rimiso in piedi nel secondo, con le reti di Badu e Zapata, ma non arrivò la rimonta. L'ultima vittoria, 25 aprile 2015, 2-1 sui rossoneni, rete del gladiatore Gian Piero Pinzi, su corner di Di Natale, a un quarto ora al termine, Badu mise la parola fine sul discorso partita, con l'inutile rete di Pazzini a due dalla fine. Il bilancio, il diavolo ha vinto il doppio, dei confronti e le zebrette che sono fermi a 19 successi, dei quali 12 sono stati conquistati. a Udine, questi dunque un po' di numeri. Ieri ovviamente ha parlato in conferenza stampa anche Mr. Del Neri, vi dicevamo parola d'ordine, aggressività, chi non ha fame va in panchina, Del Neri scuote la squadra, dopo la brutta gara di Empoli ripartiamo dalle nostre certezze. Si è parlato del momento di Zapata, Duvanna alle volte ha giocato bene, altre un po' meno, ma è un ragazzo che si impegna tanto ed è utile alla squadra. Andiamo ad ascoltarlo però Gigi Del Neri, quando parla proprio dell'aggressività, della capacità che deve avere l'Udinese di aggredire la partita, di essere subito sul pezzo per avere la meglio. Sui rossoneri. Aggressività. Questa è la calcistica, parlo io. Giochiamo contro la squadra tecnicamente molto brava, a giocatori interessanti, italiani, giovani, che hanno delle grandi caratteristiche importanti, a me piace molto questo tipo di discorso, e dobbiamo stare attenti alle loro accelerazioni, ai loro giocatori che hanno un 1 contro 1 facile, e per tutto questo, chiaramente per colmare un attimino questo gap, chiaramente noi dobbiamo essere più intensi, andare al supportore di palla, cercare di togliere la verticalizzazione, cercare di avere intensità. Contiamo di fare questo domani, abbinandolo a quelle piccole cose che sembrano farle, e metterle in pratica per tutti i 90 minuti. E anche l'attenzione, penso sia una fase in cui domani deve essere prolettata. Le partite che abbiamo perso, anche le partite che abbiamo perso, danno anche degli insegnamenti, quindi è chiaro che noi giochiamo su quello, però penso che noi aderbiamo adesso andare a lottare, per la maglia, per le volle di fare, contro il Milan non avrebbe bisogno neanche di motivazioni, perché il Milan già di per se stesso, da motivazione, lo stadio pieno, la gente che vuole ritornare alla vittoria, di vedere le giocate, e penso che sia questo poi i termini per la vita di domani. Grande fiducia nei giocatori, la prima cosa che noi abbiamo, noi stessi, la grande fiducia in quello che dobbiamo fare, poi possiamo anche sbagliare, però la fiducia di continuare a lottare, a buttare sul campo tutto quello che abbiamo, deve essere la prima prerogativa per noi, per avere un campionato giusto, e per riuscire a guardare sempre avanti. Queste le parole di Del Neri, sull'aggressività che dovrà avere l'Udinese, quest'oggi in campo, dicevamo di Gnucuri, così chiudiamo anche la parentesi legata alla conferenza stampa, di mister Del Neri, Gnucuri tra i convocati, il nuovo acquisto dell'Udinese, arrivato in prestito con delitto di riscatto all'Inter, sarà in panchina, Gnucuri che viene presentato da Del Neri, così. Il giocatore è un giocatore giovane, ma ha fatto già delle partite importanti con l'Inter, ha qualità di signor campista interno, è un giocatore che ha buona tattica, buona distribuzione di tecniche, come tecnica individuale, il giocatore che darà solidità sicuramente al nostro reparto, quando sarà in condizione, quando conoscerà sicuramente i propri compagni in maniera migliore, è appena arrivato, è convocabile sicuramente, però con una patenza non da titolare in questo momento. Però per conoscenza penso sia giusto che si inserisca il minuto, infatti oggi è stato convocato, venire in tiro con noi, stare insieme, conoscere i propri compagni, fare il primo allenamento, come giusto che sia come inserimento. Poi domenica, non si sa, durante la partita ci può anche stare il momento in cui può darci una mano, avendo già un ruolo ben definito, insomma, c'è anche il popolo a punta, insomma, tutto lì, al ruolo giusto per poter dare una mano in certe situazioni, se c'è una situazione o le possibilità. non vedremo punta, Agnucuri, questi c'erano pochi dubbi, li ha definitivamente mandati via del neri, dicevamo del quasi tutto esaurito che ci sarà allo stadio questo pomeriggio, ci sono ancora 527 posti liberi, lo scrive anche il messaggero, ve lo ricordiamo anche noi, quindi match da tutto esaurito al termine di una fase di premendita che è andata decisamente molto bene, fin dalle prime battute per gli ultimi ritardatari, comunque le biglietterie dello stadio apriranno questa mattina alle 10.30, il consiglio è di arrivare a ridosso dell'apertura delle casse per evitare di rimanere senza tagliando per l'ingresso, il costo dei ticket oggi sarà maggiorato ai 5 euro rispetto al costo di premendita, ma questo si verifica ogni volta che si acquista un biglietto nel giorno partita, sarà completamente pieno, quindi il nuovo Friuli che ancora una volta avrà una netta maggioranza dei tifosi avversari sugli spalti e che sarà diviso tra colori bianco-neri e rosso-neri che inevitabilmente si mescoleranno tra loro in gran parte dei settori dello stadio. L'AUC nel corso di questa settimana ha lanciato un comunicato nel quale ha chiesto ai propri tifosi di fare tanto rumore per zittire quelli di un'altra fazione, però insomma del resto quando si gioca con le grandi è spesso così e oramai ci siamo abituati. In taglio alto si parla anche di quella che è la Coppa d'Africa, c'è il Camerun così come il Burkina Faso che si sono guadagnati alle semifinali in due partite molto molto emozionanti, il Burkina Faso ha battuto nel finale la Tunisia per 2-0, mentre il Camerun ha avuto la meglio ai rigori sul Senegal, mentre oggi toccherà al nostro Bado che con il Ghana affronterà il Congo e poi l'Egitto di Salah se la vedrà col Marocco di Benassia. Dunque stiamo arrivando alle ultime battute di una Coppa d'Africa, come al solito molto molto emozionante. Parliamo anche di Primavera, Primavera che purtroppo non vive un buon momento, così ci andremo a vedere anche come. È andata la gara con le nostre immagini in esclusiva, sconfitta con Lascoli per 1-0 in una gara molto molto sfortunata, al di là del rigore poi sbagliato da Lascoli sul 1-0, l'Udinese ha preso due pali, uno addirittura a porta vuota. È una serie interminabili di occasioni sprecate che adesso vi andiamo a mostrare. Purtroppo è una sconfitta che arriva in un momento non positivo per l'Udinese, fa seguito alla brutta sconfitta maturata contro la Juventus, quindi sono già due K.O. consecutive e adesso si allontana un po' la zona play-off che è quello che è stato dichiarato come obiettivo stagionale, la sintesi di Udinese-Ascoli. Assolutamente restare in scia, gara che inizia in questo momento con Lascoli che batte il calcio d'inizio, attacca sulla destra con Eleuterio. Cermela, cross sul secondo palo, la chiama per Isan che però esce male! Arriva il gol dell'Ascoli con Tassi che si toglie anche la maglietta, andrà a prendere il cartellino giallo, ma Lascoli passa subito in vantaggio con la rete di Tassi. Nella partito meglio, Lascoli con questo 4-1, 4-1, molto aggressivo per cercare subito una giocata che ha dato fiducia, sempre due cross che hanno messo in pericolo l'Udinese dal lato di destra, in questo caso un po' incerto per Isan, non si è capito bene con i due centrali, la palla è scorsa, bravo Tassi a farsi trovare dietro, bello il colpo di testa, non potente ma giusto, calibrato, equilibrato sul secondo palo. Parte Variola, morbido sul secondo, proprio dove c'è Vasco, grande parata! E poi non riesce, arriva a dire in porta a Bovolon, ma l'Udinese ha avuto la grandissima possibilità di pareggiare. Variola parte col destro sul secondo palo, dove però non ci sono giocatori dell'Udinese, sfera che resta ancora lì a danzare Vasco, è la chiusura di Venditti, da uno contro uno, arriva come un treno Eleuteri, servito adesso Eleuteri, la finta sul sinistro, ancora Eleuteri va via in mezzo a due, è però attentissimo Parpinell, marcature molto strette di rigore, pallone che viaggia sul secondo palo, grandissima chance per Lascoli, parata di Perisane che per fortuna era posizionato proprio lì, il colpo di testa di Capozzi. Bovolon, tiro per lui, ancora Bovolon, Bovolon può caricare il destro, allarga per Serafini, il controllo non semplice di Serafini, ancora Serafini cerca il fondo, pallone che viaggia per Bovolon, riesce in qualche modo Lascoli a salvarsi, e trova Garmendia, ancora l'1-2 che si chiude, Garmendia può partire, ancora Nico si accentra, serie di finte di Garmendia, danza sul pallone Garmendia, in mezzo a tre, in mezzo a quattro, movimento di Alilovic, il sinistro, e la parata di Venditti. Ancora Carmela, arriva come al solito a dare una mano a Eleuteri, Carmela crossa sul secondo palo dove c'è Tassi, rischia molto Serafini, Tassi finisce a terra, calcio di rigore, di dire che è giusta la decisione del direttore di gara, perché aveva perso il tempo e l'ha giocata Serafini, l'ha messo a terra il numero due dell'Udinese, De Angelis contro Perisane, pallone che termina alto, l'Udinese resta in partita, errore clamoroso da parte dell'Ascoli. Calciato male, con troppa forza, ha voluto metterla sotto la traversa, dove il portiere non sarebbe potuto arrivare. Prova ad accentrarsi, è chiuso, deve tornare da Bovolon, Bovolon per Variola, forse trattenuto, Joulou, Joulou, grande occasione, Joulou, palo, palo di Frank Joulou, grandissima occasione per il numero 9 dell'Udinese, si infrange sul palo, la possibilità dell'Udinese di pareggiare i conti. Variola sul pallone, pronto a metterla nel mezzo, cerca di liberarsi Armenacas, lì sulla destra, dove le cross che arriva in questo momento, due giocatori finiscono a terra basco, pallone che termina ancora fuori di nulla, poi ancora però può attaccare Garmendia, Garmendia, zona tiro per lui, Garmendia, Garmendia allarga per Bocic, il controllo palla di Bocic, pallone che passa per Armenacas, ancora venditti, dove prova a intervenire Armenacas, occhio, che Lascoli quasi mette, si mette solo in difficoltà, grande chance, Bocic, 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 salta il portiere, Bocic, palo, palo, poi Joulou, Joulou, pallone che termina fuori, entrare di rigore, grande occasione, Joulou, la chiusura di Capozzi, poi occhio, a Garmendia, frisce a terra, rigore, no, ammonito, ammonito per simulazione, Nico Garmendia, sembrava calcio di rigore da qui, finisce qui, vince Lascoli, Udinese, non riesce a recuperare, e quindi momento nero per la primavera, due pali, le avete visti, clamorosi, una rete presa nei minuti iniziali, e poi non è stata più capace, la formazione di Mattiusi, di rimettere la gara sui binari giusti, ma cambiamo argomento, prendiamo di basket, oggi c'è la GSA, che vuole vincere per la tranquillità, come dice Coach Lardo, Cevitale arriva a Forlì, il mister incita i suoi, voglia una squadra che abbia fame, la più dovrà avere, dovrà ancora fare a meno degli infortunati Castelli e Vanuzio, è il play tra in e quasi out, per un problema al ginocchio, tra i romagnoli esordio, per lo USA, Johnson, già sicuri 1700 spettatori, tra abbonati e biglietti venduti, ma le casse del Palasport, apriranno alle 16.30, interviste a metà e fine partita, su Udinese TV, come al solito, quando la squadra gioca in casa, non ci sarà la diretta, ci collegheremo, per darvi gli aggiornamenti, nel corso di Sport Life, con Francesco Tonizio, a partire dalle ore 18.00, questa la formazione della Piu e della Unieuro Forlì, Diop, Gatto, Coglio, Zacchetti, Nobile, Cuccarolo, Traini, Pinton, Ferrari, Kitty e Alan Ray, per Udine, Mentre Forlì, a Rotondo, Polini, Reati, Ravioli, Ferri, Bonacini, Tiam, Johnson, Crocket e Pieric, questi gli atleti a disposizione di mister Giorgio Valli. Andiamo sul gazzettino, poi ci spostiamo sulla gazzetta dello sport, chiudiamo però la parentesi locale, con la ricetta ai del neri, aggressivi e attenti, l'abbiamo visto prima, il mister ha indicato quali sono i punti da seguire, per avere la meglio sul Milan, così in campo, non ci sono dubbi, la stessa formazione che vi abbiamo proposto nel corso di questa settimana, Carnesis, Faraoni, Danilo, Felipe, Samir, Alfredson, Fofanai, Janto, De Paul, Terò e Dovan, Zapata, Milan con Donnarumma, Abate, Palette e Romagnoli, Antonelli, Cuccalo, Catelli, Pasalic, De Lofeu, Bacca, Buonaventura, per il gazzettino invece le novità ci sono e come, Bertolacci in panchina con Pasalic dentro, Suso in panchina con De Lofeu, io onestamente nutro qualche dubbio, però vediamo, Montella punta molto su De Lofeu, il tecnico dice lo spagnolo è veloce, questa gara è fondamentale per l'autostima, dopo la sconfitta con il Napoli e con la Juventus, vi diciamo che il Milan ha tanta voglia di rialzarsi in campo, poi c'è un duello molto bello, come sottolinea Marco Agrusti nel suo articolo, duello di bravura fra i due portieri Donnarumma e Carnesis, che sono sicuramente tra i migliori interpreti di questo ruolo in tutto il campionato, oggi gioca anche il Pordenone, Pordenone che è pronto a ripartire, deve sfruttare la chance per restare in cima al campionato, dopo un mese i Norverdi tornano in campo contro il Mantova, questa è la formazione che potrebbe scegliere mister Tedino, Tomei in porta, Di Agostini, Ingegneri, Stefani e Semenzato, Suciu, Burrai e Misuraka, Cattaneo, Berrettoni e Rashid Armai, il Mantova risponde con Bonato, che non è parente del nostro mitico Nereo, direttore sportivo, Gargiulo, Siniscalchi e Cristini, Bandini, Salifu, Raggio Garibaldi, Sant'Antonio e Donnarumma, Boccolari e Marco, per i nostalgici, Salifu, Raggio Garibaldi, è un grandissimo centrocampo di quelli che soprattutto nei giochi manageriali, quelli che impazzano sui computer di Mezzomondo, erano destinati a una grande carriera da giovani e poi evidentemente non si sono confermati, i protagonisti saranno Luca Cattaneo e Mattia Marchi, secondo il messaggero, Pordenone smanioso di giocare, voglioso di tre punti, come ha detto Mr. Tedino. La Gazzetta dello Sport, Inter Express, settima vittoria di fila per i ragazzi di Pioli, battuto anche il Pescara per 3-0, settima vittoria di fila che vale il quarto posto, scavalcata la Lazio, beffata in casa al Chivo Verona, e zona Champions vicinissima, in gol D'Ambrosio, João Mario Deder, andiamoli a vedere i gol del sabato, come al solito, questo il vantaggio di D'Ambrosio su assist di Marcelo Brozovic, la difesa del Pescara dimentica completamente l'ex capitano del Torino, poi prima della chiusura del primo tempo arriva il raddoppio di João Mario, assist di Perisic, il portoghese realizza il suo secondo gol consecutivo, e poi nel finale in fuorigioco, Icardi servito, poi restituisce la cortesia a Deder, 3-0 per l'Inter, Icardi che però diciamo parte da posizione di offside, la Lazio a sorpresa, perdi al novantesimo contro il Chivo Verona, con questo gol di inglese, risultato che cambia la classifica, visto che l'Inter così scavalca, proprio la Lazio, Lazio che doveva fare a meno di Marchetti, e adesso ha due punti in meno dell'Inter, Inter che dunque sale al quarto posto, il Chivo Verona va a 28 punti, l'Udinese con un'eventuale vittoria, quest'oggi sarebbe davvero meraviglioso, aggancerebbe proprio il Chivo Verona, Milan che dei punti ne ha 37, con un'eventuale vittoria invece aggancerebbe la Lazio, dunque due squadre molto motivate per fare bene, la storia dice che il segno X non è di questa gara, però chiaramente poi tutto può cambiare, insomma speriamo di assistere, innanzitutto a una bella gara, a una bella gara per l'Udinese. Taglio basso, Allegri conferma la Juve, tutte punte, Bianconeri al Mapai Stadium, Roma-Genoma e Napoli col Palermo, contro il Sassuolo col modulo iperoffensivo, che esalta Higuain, Spalletti, Missione Samp, non perdiamo punti, Sarri si arrabbia per il calendario intenso, dice un guazzabuglio, beh Sarri era un po' effettivamente, che non si lamentava per qualcosa, di spalla il tennis da favola, Serena dice 23, ora Federer-Nadal, questo Australian Open ha regalato un colpo al cuore a tutti i nostalgici, la finale era tra Serena e Venus Williams, una finale che praticamente ha avuto inizio alla fine del secolo scorso, e ancora oggi si ripete, Serena che ha battuto la sorella Venus, poi lo sci, Azzurro e Podi con Gogia che però ci fa arrabbiare, mentre viva la serenità con Filla, ancora poi in basso, il Milan e Donnarumma, salvate il soldato Gigio, Montella fa il divenzore, critiche esagerate, non può essere sempre fenomeno, lui e Locatelli stiano tranquilli, i due giovanissimi del Milan, il classe 99 e il classe 98, non vivono effettivamente un momento perfetto, Donnarumma non è stato impeccabile col Milan, Locatelli è stato espulso in Team Cup, con la Juventus, Belotti-Petania, duello di bomber con vista sulla nazionale, c'è Torino-Atalanta, è una gara che siamo sicuri, Gian Piero Ventura, terra d'occhio, Gian Piero Ventura che verrà il 9 febbraio, a farci visita proprio qui a Udine, per visitare un po' l'impianto, che l'11 giugno ospiterà la nazionale, l'Italia che contro il Liechtenstein giocherà le qualificazioni per il campionato mondiale, il rompio valore di Gianni Gnocchi, Major League Soccer, Trump a tutto campo, le barriere sulle punizioni, dovrà pagarsene il portiere, sempre attento anche alla politica internazionale, Gianni Gnocchi, e poi la Spal, Grazie Flocari, super benevento, cittadela stop, Spal che pareggia il 95esimo, con il Vicenza, a noi fa sempre piacere perché è la squadra che in questo momento ospita i nostri Meret e Simone, e Simone Pontiscio, Benevento invece continua la sua cavalcata, chiudiamo velocemente col Corriere dello Sport, è tutto sport, Corriere che dice interminabile, parlando ovviamente dei Nerazzurri che conquistano la settima vittoria di fila, poi in taglio alto che sia la Roma da luglio ci siamo, saponare Caceres Fiorentina a due colpi, Fiorentina che porta a casa due ottimi giocatori, poi vedremo se il campo darà ragione a quelli che sono i giudizi, quelli che sono i giudizi su questi due calciatori, poi Super Gigio c'è il piano del Milan per tenerlo, e poi anche qui festeggiati i 39 anni di Gigi Buffon, oramai un mito vivente, Serena vince il derby e torna numero uno, e il Napoli di Sarri contro le date, così non va, tutto sport, Sport invece apre ovviamente con la Juventus, che è voglia di piazza, il giocatore croato dovrebbe essere titolare contro il Sassuolo questo pomeriggio, Allegri insiste sul 4-2-3-1, in taglio alto torna il Gallo, Toro Credici, e poi la Lazio, Milinkovic sì, eppure Castro, no qui si parla di Torino, perdon, con gli eventuali acquisti, Lazio che ha perso con il Chivo Verona ieri, prima della gara dell'Inter, e poi anche qui viene ricordata come la Fiorentina abbia chiuso gli acquisti di Caceres e Saponara. Siamo giunti in chiusura di questa nostra conferenza stampa, e vi ricordo velocemente, come al solito, alle 14, pre-partita con Massimo Campazzo e Alice Matteloni, ecco qui appare anche alla mia destra, ma è bello il nostro box studio e stadio, con Alice Matteloni, Massimo Campazzo, Adelano Fedele e i loro ospiti, per parlare di Udinese Milan, seguiremo insieme la gara, le interviste del post-partita, poi Sport Life, alle 21, studio e stadio, col sottoscritto Marco Tavian, Gianluca Lena, Umberto Sarcinelli, Alice Matteloni, ovviamente ci sarà anche l'arbitro Carletto Longhi, che è tornato a trovarci, ampio pre-partita anche lì, dalle 21 fino alle 22.30, per analizzare in ogni dettaglio Udinese Milan. Grazie mille per averci seguito, e io, come al solito, vi invito a restare su Udinese TV, la casa del tifoso bianconero, e vi auguro ancora una volta, buongiorno Friuli. gestures, grazie mille per avercive in ogni partita, grazie mille per avercive in ogni partita,